Hai mai sentito parlare di Gibilterra come paradiso fiscale? Sul web se ne parla tanto, ma non è facile reperire informazioni veritiere e corrette là fuori. Scopriamo allora insieme se Gibilterra può essere inserito all'interno di strutture di pianificazione fiscale più o meno complesse. Ciao, sono Luca Taglianatera e da oltre vent'anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscale e finanziarie dei miei clienti. Oggi per il ciclo Spagna parliamo di Gibilterra. Nei video precedenti abbiamo coperto il sistema tributario spagnolo, abbiamo parlato di isole canarie e della loro specialità. Oggi per chiudere la penisola iberica andiamo a parlare di Gibilterra che è una piccola striscia di terra poco sopra il Marocco tra Malaga e Cavice che tecnicamente non appartiene alla Spagna ma alla corona unita, alla corona britannica anche se la Spagna ne vorrebbe rivendicare il possesso. In realtà dall'ultimo referendum 2002, ormai oltre vent'anni fa, è emerso che il 98% degli abitanti di Gibilterra preferiscono rimanere appartenenti alla corona britannica e quindi penso proprio che per il momento non cambierà nulla anche perché Gibilterra deriva il suo status di paradiso proprio dal fatto di essere un paese di common law così come Malta, così come Irlanda, così come Cipro. Essere un paese di common law permette una serie di vantaggi finanziari, bancari e fiscali di una certa importanza devo dire che Gibilterra mantiene uno status bancario immacolato anche finanziario e allora vediamo come si fa a diventare fiscalmente residenti a Gibilterra. La regola l'abbiamo vista già in altre giurisdizioni, bisogna rimanere, permanere all'interno del territorio per almeno 180 giorni all'interno di un anno che va dal primo gennaio al 31 dicembre o perlomeno 300 giorni in tre anni consecutivi. In questa maniera si acquisisce lo status di fiscalmente residenti. Esistono però due grandi agevolazioni che forse interesseranno di più che sono rivolte ai cosiddetti HNWI, cioè agli high network individuals, fondamentalmente a chi ha un patrimonio di una certa misura. Si sono quindi due grandi agevolazioni. La cosiddetta Category 2, prevista appunto per HNWI. Per qualificarsi come Category 2 a Gibilterra è necessario però soddisfare una serie di requisiti. Bisogna disporre di un minimo di 2 milioni di pound in beni verificabili, l'affitto o l'acquisto di una proprietà residenziale qualificata a Gibilterra, bisogna disporre di un'assicurazione medica privata valida e bisogna non essere stati residenti a Gibilterra nei cinque anni precedenti. In questo caso si applica quindi una tassazione worldwide ma solo sui primi 118 mila pound di income. Dopodiché tutto il reddito che supera questa fascia a livello personale non è tassato. Non ci sono imposte sulle successioni, non esistono imposte sulle donazioni, non esistono imposte sui capital gain, non esistono imposte patrimoniali eccetera eccetera. Quindi direi che tecnicamente stiamo parlando di un vero e proprio paradiso fiscale. L'altra categoria è invece quella di agevolazione che possono assumere il rango di fiscalmente residenti, sono quelli che possono assumere un ruolo dirigenziale all'interno di compagni locali. Prendete in considerazione che Gibilterra è molto nota e conosciuta per il gaming, quindi esistono delle enormi compagnie che evidentemente danno tanto lavoro. Mentre la seconda categoria è denominata HEPSS ed ha la possibilità a chi viene assunto in un ruolo dirigenziale di avere più o meno i benefici che abbiamo visto per quelli che rientrano nella categoria 2. Solo che qui quello che cambia fondamentalmente è l'esenzione del reddito. La soia è di 160 mila pound, quindi fino a 160 mila pound di stipendio sei tassato, sopra non subisce nessun tipo di imposizione. Quindi ritorniamo fondamentalmente alle stesse caratteristiche che abbiamo visto prima, quindi nessuna imposta sulle successioni e donazioni, nessuna patrimoniale, nessuna imposta sul capital gain. A livello societario, quello che forse importa ancora di più oggi, soprattutto a noi che siamo in Italia o in generale cittadini dell'Unione Europea, l'imposizione societaria è del 12,50% nominale su base territoriale. Inoltre i dividendi in uscita non subiscono withholding tax ritenuta, non esiste una tassazione sul capital gain e quindi a mio parere questo dà a Gibraltar sicuramente lo status di paradiso fiscale, ma se e soprattutto se inserito all'interno di pianificazioni un po' più complesse. Cioè io non lo consiglio tanto per un trasferimento di residenza personale, in quanto è un paese ai sensi dell'articolo 2,2 bis del testo unico blacklist, per quanto parliamo, insomma siamo aperti, ci occupiamo di relocation anche a Gibraltar, del resto anche Monte Carlo e Blacklist per intenderci, però per le sue particolari caratteristiche la consiglio soprattutto per l'incorporazione di holding company. Se sei interessato ad un relocation plan o ad una pianificazione fiscale complessa o all'apertura di una holding a Gibraltar, allora ti invito a cliccare il link in descrizione per notare una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.